Questo è per mercoledì 1 maggio. I uomini trucidati ieri sera a Miano potrebbero essere stati uccisi nell'ambito degli scontri scoppiati dopo la disarticolazione del clan Lombo che in quelle zone ha segnato da padrone indiscusso per decenni. La guardia è avvenuta intorno alle 19, i investigatori non hanno dubbi, quella pioggia di fuoco porta alla firma della camorra e le due vittime erano i bersai designati. All'arrivo della seconda travesta, la seconda travesta di Anfolla, i carabinieri della compagnia Vomero hanno trovato la Peugeot di Palumbo con faria incoraggisi e crivellata di proiempi. Per evitare che il figlio, affetto da psicosi, uscisse da casa, una famiglia di Saviano, provincia di Napoli, lo teneva incatenato a letto. I carabinieri hanno arrestato madre, padre e sorella dell'uomo 36enne. Era costretto a vivere tra letto e armadio, due lucchetti lo ancoravano da un lato a letto e dall'altro a un armadio. fermata la coppia di 63 e 60 anni oltre alla figlia di 35 anni. I militari parlano di una condizione di assoluto degradato e di estreme condizioni igieniche. I tre sono incensurati e disoccupati e sono ritenuti responsabili di sequestro di persona aggravata e mandata bene in famiglia. Sul posto è stato fatto intervigire anche al personale del 118 che ha arrestato la prima cura. L'uomo è stato portato in ospedale per ulteriori aggettamenti. Un'evasione fiscale è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli durante controlli a medici abilitati ed accertare la unità psicofisica. Per il conseguimento e il rinnovo delle patente di guida, i controlli hanno riguardato 150.000 viste mediche tra Napoli e l'isola di Ischia nell'ultimo triennio. L'inclusione delle informazioni di enti pubblici e banche dati ha messo in gru un sistematico occultamento dei compensi. Le criticità e la mandano soprattutto zette tra medici di base e medici militari in quescenza, la cui posizione nei confronti del fisco non rispecchia il numero di viste effettuate. Uno di loro tra il 2015 e il 2016 ha effettuato 98.000 viste per le quali ha preso in nero, a parte la quota trattenuta alla scuola guida, compensi che hanno fatto emergere 450.000 euro di differenza tra il denaro percepito e il reddito regolamento dichiarato. Metcoli di primo marzo. la loro situazione con il fisco. Oltre 435 milioni di euro sottratti in tutto il mondo agnari correttisti grazie al traffico internazionale sul dark web di carte di credito e codici bancari sottratti tramite operazioni di hating. Il gigantesco bottino finito nelle casse di un'organizzazione criminale che agiva in 16 paesi, 13 gli arrestati in ambito internazionale, grazie a un'indagine che ha visto coinvolto oggetto della guanzia italiana e personale americano nella Homeland Security Investigation. Per mercoledì il primo marzo d'Italia è un uomo della provincia di Napoli, conosciuto sul dark web con il nickname di Daniel Ogort, che ha preso parte attivamente all'organizzazione criminale fin dal 2010. Attenzione ieri a Santa Maria di Castellabate nel Sarelletano, una ragazza di 23 anni, ha rischiato di essere violentata da un quarantenne di origini moldave in corso a Matalazzo. Pare che l'uomo abbia iniziato a parpeggiare la ragazza e poi abbia tentato di trascinarla con sé per poterne abusare. La madre capitale ha iniziato a urlare, così ha tirato l'attenzione dei passanti. La giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire via, trovando rifugio in un negozio. Lo straniero non si è arreso, inseguendo la fidanzia locale e minacciando la gente brandento. Ok, questo è per mercoli di primo marzo del 2024. È arrestato dai carabinieri della locale stazione. Nel corso di ispezione dei carabinieri dell'Ass di Salerno, in tre panifici sono stati posti sotto sequestro amministrativo, circa 4 tonnellate di prodotti dolciari, assieme a latticini e semilavorati, tutti per mancanza della tracciabilità. Sequestrati anche 800 kg di carne congelata abusivamente, riva in dubbio, sempre nell'ispezione di tre attività dedite alla panificazione tra il capologo salernitano e cavo di Tisrini. Sigilli, invece, in un laboratorio e una cella frigorifera che è annessi a un panificio, sono stati trovati in condizioni strutturali, igienico-sanitari pessime. Durante le ispezioni, inoltre, sono state rilevate tra il personale impiegato e al lavoro diverse posizioni lavorative, risultate poi irregolari. In provincia di Caserta e Salerno, il carabinieri delle politiche agricole, hanno sequestrato 5 quintali di prodotti ortofrutticoli e 4.950 uova per la violenza di elementi umili per i daniela proiettari del prodotto. Inoltre, sono state sequestrate in provincia di Napoli 4.560 bottiglie contenenti aperitivi alcolici per complessivi 1.254 litri con etichette esclusivamente in lingua polacca e quindi per la mancanza di informazione a tutela del consumatore. Ad Amalfi sequestrate 1.774 bottiglie contenenti limoncello e 346 vasi di babbai liquore di limone per 520 litri complessivi con etichette riportanti indebitamente vocazione ai limoni della costa da Marfi GP, mentre in realtà erano stati utilizzati limoni comuni contestrate sanzioni per circa 11.000 euro. Ok, questo è il momento del tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG. Adesso stacco. Grazie per essere stati con noi.